30 ettari di territorio, 30 ettari occupati da uno stabilimento ormai dismesso, la cementeria di Vibbo Marina. Qui lavoravano 80 dipendenti, avevano da vivere 400 famiglie grazie all'indotto per un giro d'affari di anche 100.000 euro al giorno. Adesso la cassetta delle lettere dimostra che da queste parti non si vede nessuno da molto tempo. In uno dei tratti di litorale che vanta la più alta concentrazione di strutture turistiche della Calabria, le torri della fabbrica alte più di 70 metri sono i silenti testimoni di un paradosso tipicamente italiano. Nessun obbligo di bonifica incombe sul gruppo tedesco Heidelberg che rilevò l'impianto nel 2016, ma soltanto per confermare la chiusura e cannibalizzare i macchinari da destinare ad altri cementifici. Strade abbandonate, viali pieni di sterpaglie, questo era il parcheggio dei camion. Oggi sembra lo scenario di un film post-apocalittico. Intanto intorno alla fabbrica chiusa il degrado cresce. Rifiuti ovunque, vecchi frigoriferi, divani e lavatrici come se piovesse, topi e nuovi barbari che vengono sin qui per eludere la raccolta differenziata e le più elementari regole di convivenza civile. Vibo Marina è diventata una discarica a cielo aperto e lo sanno tutti, comune compreso. Uno scandalo che recentemente è tornato a fare capolino dalle tv nazionali con striscia alla notizia che si è chiesta perché. Una domanda a cui non c'è risposta se non nella constatazione di un fallimento che pesa sulla classe politica calabrese degli ultimi dieci anni, che non è riuscita né a difendere l'insediamento industriale né a programmare la riqualificazione dell'aria, destinata probabilmente a restare così per chissà quanto tempo, a raccogliere polvere e rimpianti. Enrico De Girolamo per la C News 24